La prima sconfitta è il serio infortunio di Simone Ferrari, un weekend a dimenticare per il Benetton Rugby con la trasferta di Glasgow che ha visto i leoni sconfitti dagli Warriors. Per il pilone bianco-verde i medici dello staff hanno riscontrato la frattura della clavicola destra. Dopo il necessario periodo di immobilizzazione, Ferrari inizierà il lungo percorso di recupero. Intanto la squadra riparte dal quel 26 a 12 contro gli scozzesi allenati dall'ex di turno Franco Smith. Nel primo tempo il Benetton sembrava aver retto l'urto andando sul 14 a 19 per i padroni di casa. Nella ripresa però gli scozzesi hanno alzato ulteriormente il ritmo, segnando altre due mete contro un solo calcio piazzato dei leoni. Qui poi è arrivata la terza meta di Glasgow che ha chiuso il discorso per il 26 a 12 finale. Dopo la sbornia di un inizio di campionato fantastico i ragazzi di coach Bortolami sono tornati sulla terra ma con l'ottavo posto a 14 punti resta un trampolino importante. Fondamentale ora ritrovare compattezza anche in terra avversaria e non soltanto a Monigo. Il test è già pronto, venerdì prossimo ancora in Scozia per il match contro Edimburgo.